anche di questa grandissima puntata. Voglio ringraziare tutti gli ospiti che l'hanno resa veramente magica, voglio ringraziare tutti i membri della Femini che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata veramente bellissima, voglio ringraziare Radio R9 e voglio fare un applauso al Caffè 24 di San Benedetto del Tronto e alla mente perversa di Alessandro Genziani che ha avuto la brillante idea di invitarci qui ormai mesi e mesi fa creando l'unico appuntamento vero nel lunedì di San Benedetto del Tronto, Ascoli, Teramo e tutte le province della Calassia. Poi volevo ringraziare ovviamente tutti voi che siete qui che applaudite ovviamente per finta perché non facciamo ridere neanche per un cazzo, quindi vi ringrazio per farci, per applaudire per essere qui ogni lunedì sera, ora lascio la parola al mio socio radiofonico per la sua chiusura con la frase d'amore perché prima di tutto questa è una puntata, è un programma che parla di amore e poi con l'unica canzone ma vi spiegherà lui il perché. Allora ragazzi questa sera abbiamo fatto tante belle cose, ci siamo divertiti, abbiamo tentato anche le dirette su Facebook quindi ce ne sono un paio di video buttati lì, andate a cliccare un bel mi piace così ci incoraggiate a farlo in maniera poi puntuale e precisa tutte le volte perché pensa che bello Emiliano, ci sentono per radio, ci sentono in streaming ma ci vedono anche in diretta ed interagiscono con noi, ok? Quindi cercheremo di realizzarlo in maniera in maniera precisa e perfetta per le prossime puntate. Perché non tutti sanno che tu sei quello che ha fatto il video a quella signorina che spombinava lì. Dai no, non è vero! Fermati che poi la gente ci crede. Sei tu! Fermati, fermati. Allora, come vi dico sempre ragazzi, vi ringraziamo davvero della vostra vicinanza, del vostro affetto, ormai siamo veramente ad un totale di centinaia, non li contiamo più, di ospiti e soprattutto di pubblico. Questa trasmissione è veramente innovativa perché in Italia è un talk show di due ore senza nessun tipo di interruzione pubblicitaria e nessun tipo di interruzione musicale. A parte il centro di massaggio abusivo cinese scotanelle! Smettila, lo so che sto facendo un pistolotto serio, però davvero si fa fatica a trovarla, quindi ha una trasmissione veramente innovativa. Però abbiamo comunque sempre bisogno del vostro calore, perciò mettete mi piace alle nostre pagine Radio R9, Facciamo l'amore e tutti i nostri profili e permetteteci di andare avanti. Poi se sei una ragazza carina e piacente sappi che Davide Rullo è single! Vietelo a trombare al caffè 24! Solo qui, puoi farlo solo qui perché già fuori è più complicato. Quindi al caffè 24, il caffè dell'amore come l'abbiamo ribattezzato. Ragazzi questa sera la canzone per terminare la nostra trasmissione è una canzone bellissima, è di Lucio Battisti e si chiama Emozioni. Emozioni di Lucio Battisti. La frase con cui concludiamo la trasmissione di oggi è di Margaret Mazzantini. Con questa frase vi auguro una buonanotte e un buon proseguimento di serata qui al caffè 24 e sulle magiche frequenze di Radio R9. Gli amori che sembrano assurdi certe volte sono i migliori. I migliori e i migliori siete voi! Ciao! Buon proseguimento di serata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!